Avrete capito e non ne rivicito perché siamo tanti, ma che la parola d'ordine anche in questo caso è una parola d'ordine bellissima per vincere, che è collaborazione. E' questa la filosofia che sta rendendo forte questa campagna di vaccinazione, collaborazione tra livelli diversi dello Stato e collaborazione con i territori, e collaborazione con chi in questo Paese produce, fa sport e tutto quello che esiste in questa nostra Italia. In questo caso, grazie alla Federnuoto, è stato un bellissimo segnale. Alcuni giorni fa eravamo a Cinecittà, dentro gli studios, ieri in un centro commerciale, prima ancora nel Palazzo dei Congressi, poi all'auditorium, perché di fronte alla grande missione di vaccinare in breve tempo 50 milioni di italiani, la strada da percorrere era esattamente questa, chiamare alla collaborazione migliore l'Italia migliore. E questa strategia sta funzionando perché, va detto, dietro ogni numero e dietro ogni risultato, c'è la passione di decine di migliaia di donne e di uomini, operatori sanitari, protezione civile, cittadini privati, croce rossa, esercito, forze dell'ordine, che, permettetemi di dire, in quest'Italia dove a volte sembra non funzionare nulla, magicamente stanno diventando una grande comunità che si dedica a salvare le vite umane, innanzitutto, a salvare l'economia e a riaccendere i motori della ripresa economica. Grazie.